Abbiamo più notizie per questo terremoto che c'è stato oggi 26 ottobre 2016 alle ore 19 e 13 circa della sera ovviamente, terremoto che ha coinvolto purtroppo il centro Italia e ha coinvolto in una fattispecie concreta la regione Umbria, la regione Marche e la regione Lazio. A Roma, perché io abito a Roma, si è sentito molto bene, ovviamente in modo molto lieve, non in modo molto forte, ma l'epicentro sarebbe a Macerata, sarebbe stata colpita la provincia di Macerata e la provincia di Terni. Il Terni è nella regione Umbria e invece Macerata è nella regione Marche. Bene, questo è quanto vi ho aggiornato, dunque il grado di magnitudo è più del quinto grado. Grazie, mi raccomando, se avete notizie, se avete informazioni, se avete per così dire dettagli aggiuntivi, aggiornamenti, scriveteli in questo video, scriveteli sotto a questo video o anche agli altri che già ho realizzato e che già ho destinato a questa grave minaccia che è il terremoto, perché bisogna essere informati e soprattutto fare chiarezza e sperare che questo terremoto non abbia coinvolto persone che purtroppo, soprattutto nella matrice, che di recente mi ricordo è stata distrutta, possano ritrovarsi ancora in una situazione di emergenza più dura. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione, ripeto, il terremoto Umbria, Marche, Lazio, provincia di Macerata, regione Marche, Umbria, provincia di Terni, a Roma si è sentito, questo è quanto, grado 5.1, quindi supera il grado 5. Grazie.